Mi ha reso partecipio di questo bellissimo progetto, devo dire che le foto sono veramente fantastiche e non credo che siano anche, sì sicuramente per i turisti ma anche per i milanesi, soprattutto per i milanesi proprio perché siamo sempre imbruttiti, di corsa, schizzati, di vedere degli angoli nascosti di Milano che io spesso non conosco, ci sono delle zone di Milano che per me è come se fossero un'altra città per cui veramente grazie per questo e le foto sono veramente notevoli, ma hai preso anche l'elicottero ci sono delle vesute fantastiche e poi lui a suo tempo mi chiese così una frase per descrivere Milano io mi sono ispirata a quello che è stato il mio editore e quello che ha scritto in me e vi porto esattamente le sue parole per come ce le ha, scusate, sì è di Llorosconi, sto parlando di Llorosconi il quale disse Milano non ha fiumi, non ha mare, è un luogo di incontro, un antico procedia perpetuato nei secoli un posto dove tutti hanno una doppia cittadinanza, quella di origine, mai umiliata, e quella milanese concessa con semplicità grazie grazie e comunque grazie ancora a Milano sei una persona speciale, felice di avermi incontrato grazie 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 grazie